Finalmente ci siamo, finalmente siamo arrivati alla terza e ultima parte della Tana dello Zaccolo Sigla e ci vediamo tra qualche istante Allora facciamo un breve riassunto Nella prima parte, che vi lascio il link in descrizione e qua sopra nella scheda abbiamo ripulito tutto l'ambiente e vi ho fatto vedere tutta la marmaglia di roba che c'era che ho spostato, che ho fatto, detto, bla bla Nella seconda parte ho fatto vedere i lavori, pavimento, muri, canaline, bla 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 E ora non ci resta che vedere tutto l'ambiente come l'ho sistemato, vedere le soluzioni che ho adottato ma soprattutto vedere quanto spesso Carta canta Bando alle ciance Contrigno la mano E... Aspetta un attimo, però Aspetta lì là Allora... Pavimento Lerua Merlè 181 Barie Lerua Merlè, quella al fare d'alluminio che c'è sotto il pavimento Utensilieria 86 Colorificio Brovini, vernici e robe varie 56 Edeschi Legnami Questo, 150 Tedeschi Legnami BIS 60 euro le assi verticali 60 Rossetti Market Chi non conosce Rossetti Market da queste parti L'impianto elettrico più varie Cioffoli va 180 Quindi 1, 7 E 6 13 8 6 Prendo la calcolatrice E faccio prima Sono un po' arrungito Alla mattina Quindi 181 Più 86 Più 56 Più 150 Più 60 Più 180 Uguale Il 3 però ce l'avevo preso 713 Più 100 euro Muratore 813 Signori Questo è il costo vivo della tana dello zacco iPhone 4 che ancora funziona Allora I prezzi li abbiamo visti Adesso qualche immagine Una clip con tutta la stanza sistemata E considerazioni finali E saluti A tra poco A tra poco A tra poco lengthy Iscrivile A tra poco 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 Il Ring A tra poco Un A tra poco A tra poco Cheguitable Grazie a tutti. Allora siamo arrivati alla fine, qualche immagine l'avete vista, una clip l'avete vista, la tana più o meno avete idea di come è fatta perché più o meno nel corso dei video l'avete vista. Comunque è questa, softbox, scaffalature, parete, frigo per le birre d'estate. E ragazzi, grazie di aver essere arrivati fino a qua, grazie di aver visto i video, se non l'avete fatto iscrivetevi, campanellina, commentate e tutto il resto, tanto le madonne e i Gesù Cristi li conoscete. Che dire, al prossimo video, ciao!